nella lezione precedente ci siamo salutati elogiando le potenzialità del diamond operator ma come si suol dire non è tutto oro quel che luccica infatti seppur molto utile in determinate situazioni questo operatore nasconde delle insidie e credetemi che non sto parlando di pericoli di poco conto dovete sapere che utilizzando questo operatore ci esponiamo al rischio di eseguire inavvertitamente programmi esterni e di scambiare l'output di quest'ultimi per il contenuto del file che si desiderava processare nell'esempio cerco di processare utilizzando ovviamente il diamond operator questo file chiamato date spazio pipe ed è qua che accade il disastro il diamond operator non esegue alcuna forma di controllo sul nome del file da processare e il file date spazio pipe gioca un brutto scherzo sui sistemi operativi unix like alla fine del nome troviamo infatti il carattere pipe che su questi sistemi operativi innesca il pipe open il piping esegue un programma e ridirige gli eventuali standard di input output ed error al programma successivo quindi cosa sta succedendo qua in questo caso viene si eseguito lo script ma si innesca il piping eseguendo il programma date avendo così in output le informazioni relative alla data odierna anziché al contenuto del nostro file infatti se eseguiamo lo script disastro ovviamente può andarci anche peggio immaginate di eseguire inavvertitamente istruzioni come ch mod o rm rischiate seriamente di rendere inutilizzabile il vostro sistema operativo fortunatamente il problema si può risolvere utilizzando il double diamond operator che è questa cosa strana composta da due parentesi angolari a sinistra e due parentesi angolari a destra come avrete già capito è la stessa cosa del diamond operator con l'unica differenza che esegue il controllo sul nome del file da processare mettendo in sicurezza i caratteri che possono causare i problemi e rendendo quindi di conseguenza tutta l'operazione più sicura infatti se rieseguiamo lo script abbiamo in output il contenuto del file date spazio pipe anziché i dati relativi alla data odierna per motivi di retro compatibilità il diamond operator resta comunque utilizzabile ma vi consiglio vivamente di utilizzare il double diamond operator per evitare sorprese poco gradite in ogni caso dovete sapere che in questa playlist quando farò riferimento al diamond operator mi riferirò sia al diamond operator classico che al double diamond operator ma scendiamo un po più nel dettaglio e vediamo cosa succede dietro le quinte quando si utilizza il diamond operator questo operatore pesca i nomi dei file da processare andando a curiosare dentro l'array argv questo array speciale è il luogo dove il perl memorizza tutti gli argomenti passati per poi poterli riutilizzare durante l'esecuzione del programma essendo dunque un array è possibile accedere agli elementi contenuti nella sua lista come per l'appunto qualsiasi altro array nell'esempio stampo ciò che si trova agli indici 0 1 e 2 dell'array speciale argv e passo come argomenti wolverine tempesta e magneto e seguiamo lo script e infatti vengono stampati wolverine che si trova in indice 0 poiché primo argomento passato allo script tempesta in indice 1 poiché secondo argomento e magneto in indice 2 poiché terzo ed ultimo argomento gli argomenti sono di un'utilità pazzesca in quanto ci consentono di modificare il nostro codice senza dover mettere mano direttamente sul sorgente per mostrarvi meglio cosa voglio dire ho preparato questo semplice esempio nel quale ho creato uno script che restituisce in output la potenza calcolata con gli argomenti che passeremo al programma il primo argomento sarà la nostra base e il secondo sarà il nostro esponente lo script è molto semplice si crea un ciclo for nel quale si dichiara la variabile lessicale i che utilizzeremo come contatore per stabilire quante volte moltiplicare la base fin tanto che i è inferiore dell'elemento in indice 1 della re speciale argv quindi dell'esponente si moltiplica la variabile base alla quale abbiamo assegnato precedentemente l'elemento in indice 0 di argv quindi per l'appunto la base per l'elemento in indice 0 di argv quindi per se stessa una volta usciti dal ciclo for avremo in output la potenza della base passata come argomento inseriamo quindi come primo argomento il valore 2 ovvero la base e come secondo argomento il valore 3 ovvero l'esponente e seguiamo lo script e abbiamo in output 8 ovvero 2 alla terza ovvero 2 per 2 per 2 utilizzando i valori passati come argomenti per effettuare il nostro calcolo possiamo riutilizzare più volte il solito script senza dover cambiare manualmente all'interno del sorgente i valori necessari per ottenere il risultato voluto basterà semplicemente passare come argomenti i valori desiderati se ad esempio si volesse elevare il valore 5 alla terza basterà inserire il 5 come primo argomento e il 3 come secondo argomento rieseguiamo il tutto e voilà abbiamo in output 125 ovvero 5 alla terza chiudiamo la parentesi sugli argomenti e spostiamo nuovamente la nostra attenzione sul diamond operator come abbiamo detto il diamond operator utilizza gli elementi che si trovano dentro l'array speciale argv come nome dei file che si vuole processare nell'esempio invece di passare come argomenti file 1 file 2 e file 3 vado ad inserire manualmente quest'ultimi all'interno dell'area speciale argv poiché come abbiamo detto essendo in fin dei conti un comune array possiamo manipolarlo come tale infatti eseguendo lo script viene correttamente stampato in output il contenuto di questi tre file anche se non sono stati passati come argomenti poiché sono stati ugualmente inseriti all'interno di argv infatti abbiamo wolverine contenuto all'interno del file 1 tempesta contenuto all'interno del file 2 e magneto contenuto all'interno del file 3 fino ad ora abbiamo utilizzato il canale di standard output tramite la funzione print e la feature say ma vi è un altro metodo e talvolta anche più efficace per stampare informazioni a schermo ovvero la funzione printf il nome di questa funzione è l'unione tra la parola print più format infatti printf sta per print format rispetto a print e alla feature say questa funzione ci dà un pizzico in più di controllo sui nostri output per utilizzarla dovremo passare come parametro la stringa template da stampare seguita dagli elementi che verranno utilizzati per rimpiazzare le conversioni ma guardiamoci uno schema per capire un po meglio una stringa template è una stringa contenente una o più conversioni le conversioni sono una sequenza composta dal simbolo percentuale più una lettera e ogni conversione rappresenta un tipo ben definito di dato nella stringa template che vedete in esempio vi sono quindi due conversioni ovvero percentuale s e percentuale d in questo video tratteremo le conversioni più comuni ma ovviamente ne esistono molte molte altre se volete approfondire ulteriormente l'argomento vi consiglio di cercare online una tabella delle conversioni disponibili e fare qualche esperimento ma passiamo a vedere il funzionamento di printf come abbiamo detto in precedenza si passa come parametro la nostra stringa template con le nostre conversioni posizionate dove si desidera dopodiché si inseriscono i valori corrispondenti che andranno a sostituire le conversioni i valori vanno inseriti nell'ordine rispetto alla posizione della stringa template da sinistra a destra quindi partendo da sinistra della stringa la prima conversione che incontriamo è percentuale s che corrisponde al tipo stringa quindi il primo valore che inseriremo sarà la stringa gianni subito dopo troviamo la conversione percentuale di che corrisponde ad intero decimale quindi il secondo ed ultimo valore che inseriremo sarà per l'appunto l'intero 3 come risultato in output avremo la stringa formattata ciao gianni il tuo ultimo accesso risale a tre giorni fa nell'esempio vi ho riproposto la solita situazione vista nello schema creo la variabile user alla quale assegno la stringa gianni e la variabile giorni alla quale assegno il valore 3 dopodiché stampo in output la formattazione della stringa template ciao percentuale s il tuo ultimo accesso risale a percentuale di giorni fa quindi come abbiamo visto la formattazione viene effettuata eseguendo il parsing della stringa da sinistra a destra e sostituendo in ordine di inserimento le conversioni con il rispettivo valore ovvero prima conversione percentuale s con prima variabile user ovvero gianni seconda conversione percentuale di con seconda variabile giorni ovvero 3 eseguiamo lo script e come previsto abbiamo in output la stringa correttamente formattata ciao gianni il tuo ultimo accesso risale a tre giorni fa ma cosa succede se distrattamente non si rispetta l'ordine di inserimento dei valori rispetto alla disposizione delle conversioni scopriamolo insieme ho modificato leggermente lo script invertendo la posizione di user e giorni quindi durante la formattazione della stringa si tenterà di sostituire la conversione percentuale s quindi stringa con l'intero giorni ovvero 3 e di sostituire successivamente la conversione percentuale di quindi decimale intero con user ovvero gianni guardiamo un po che cosa succede per prima cosa abbiamo uno warning che ci avvisa che gianni non è un tipo di dato numerico ma abbiamo ugualmente la nostra stringa formattata male in output ovvero ciao 3 il tuo ultimo accesso risale a zero giorni fa ma cerchiamo di capire meglio cosa è successo analizzando l'output si può notare che lo warning è stato sollevato esclusivamente per avvertirci della tentata conversione di gianni ad intero decimale non facendo invece alcun riferimento alla conversione di 3 a stringa infatti nella stringa possiamo notare che la variabile giorni è stata concatenata correttamente ciò accade poiché il perl converte implicitamente la variabile giorni a stringa per poter effettuare l'operazione senza generare alcun problema non siamo altrettanto fortunati con la variabile user poiché al posto dei 10 anni viene inserito uno zero ciò accade poiché l'interprete non riesce in alcun modo a convertire la stringa gianni ad intero e il meglio che può fare è restituire uno zero come risultato della conversione insieme ad uno warning che ci avvisa che l'operazione non è stata conclusa correttamente quindi prestate particolare attenzione quando inserite i valori delle conversioni per evitare di avere cose strane in output in questo script vi ho brutalmente proposto una scarrellata delle conversioni più comuni nel primo print f troviamo la conversione percentuale x che formatta 14 in esa decimale nel secondo troviamo la conversione percentuale o che restituisce 14 nella sua forma ottale nel terzo troviamo percentuale f che restituisce 14 nella sua forma floating standard ovvero con sei zeri dopo la virgola nel quarto e quinto vi mostro come sia possibile manipolare ulteriormente la formattazione di percentuale f specificando tramite la forma punto più valore il numero di zeri da mostrare dopo la virgola nel sesto e settimo print f vi mostro invece come sia possibile modificare la lunghezza della linea di output se si inserisce un valore positivo in questo caso il 6 verranno aggiunti a destra dell'elemento da stampare tanti spazi quanta la differenza tra il valore inserito e la lunghezza dell'elemento da stampare se invece inseriamo un valore negativo solito discorso solamente che di space verranno aggiunti a sinistra dell'elemento da stampare eseguiamo lo script e voilà eccovi servito il 14 in tutti i gusti più uno bene e anche per questa lezione direi che è tutto se avete dei dubbi perplessità o domande vi invito come al solito a lasciare un commento a risentirci